C'è anche il Molise al centro dei piani di potenziamento dei collegamenti ferroviari presentati nell'incontro con i vertici di ferrovie dello Stato, RFI, svoltosi in Abruzzo. Il Molise rientra nel disegno di macro-regione del quale ha più e più volte parlato il presidente d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Pierpaolo Nagni viene presentato come il risolutore di uno dei nodi del trasporto più complicati per la sua regione, quello di Termoli. Ci tiene a sottolinearlo D'Alfonso che oggi chiede all'assessore molisano di prendere la parola e raccontare le difficoltà della sua regione. Siamo ovviamente da una parte contenti che c'è questa attenzione generale su questo quadro, da un'altra parte preoccupati dal fatto che gli investimenti ormai vanno quasi tutti al nord e da queste parti non so perché il quadro si salta. Quindi l'attenzione di più regioni che possano oggi fare implementare rispetto al quadro una pressione tale da far capire che c'è gente che vuole vivere da queste parti e che vuole anche evolversi, penso possa portare soltanto beneficio. Collegare il Molise significa efficientare i collegamenti. L'alta velocità non copre il mezzogiorno come succede al nord. I fondi destinati a queste operazioni sono stati insufficienti per farlo e oggi con la firma del protocollo si parla di lavori già in atto e che vedranno conclusione nel 2017. Dobbiamo lavorare in questo campo tutti insieme, la loro presenza però, che non è solo, mi auguro, di facciata, dà il senso che probabilmente un'attenzione diversa rispetto all'area di centro ci sarà e noi vogliamo, anche se in coda, vogliamo stare su questa filiera. Noi siamo impegnati con loro in una situazione un po' delicata che la terbo li lesina e che riguarda oggi un imbuto sull'alta capacità e la nostra presenza qui è anche per tranquillizzare i vertici di ferrovie e sulla nostra disponibilità a non creare problemi allo sviluppo a condizione che Abruzzo e Molise non siano tagliati fuori dal quadro nazionale.